La scomparsa di Giulia Cecchettini e Filippo Turetta, ex fidanzati di 22 anni, avvenuta il sabato 11 novembre a Vigonovo, Venezia, continua a essere avvolta da mistero. Prima di continuare ricordati di mettere un like al video, iscriverti e attivare le notifiche, per non perdere i nuovi contenuti e per sostenere il nostro lavoro. Il tuo contributo è prezioso, grazie di cuore. Le autorità stanno concentrando gli sforzi per rintracciare l'auto di Turetta, una Fiat Punto Nera, la cui targa è stata recentemente individuata da una telecamera al confine con l'Austria. In Trentino, le ultime notizie indicano che la targa dell'auto è stata tracciata a San Candido, provincia di Bolzano, a meno di 6 chilometri dal confine. La vettura era stata precedentemente fotografata sulla strada 51 di Alemagna, da Cortina d'Ampezzo a Dobbiaco. In Trentino, le autorità stanno intensificando gli sforzi per risolvere il mistero, coinvolgendo forze dell'ordine, vigili del fuoco e volontari della protezione civile. Giulia Cecchettin, programmata per discutere la tesi di laurea in Ingegneria Biomedica all'Università di Padova oggi, giovedì 16 novembre, sarebbe salita sull'auto di Turetta nel giorno della scomparsa. L'ultimo avvistamento dei due giovani è stato registrato mentre litigavano all'interno di un'auto a Vigo Novo. Le ricerche si sono estese alle Dolomiti, concentrando l'attenzione nella zona di San Candido e Sesto, dopo la segnalazione della presenza dell'auto vicino al confine con l'Austria. Nonostante gli sforzi di vigili del fuoco, soccorso alpino e guardia di finanza, le ricerche non hanno prodotto risultati positivi e sono state sospese. La massiccia Task Force impegnata nelle ricerche ha esteso il perimetro da Vigo Novo a Pordenone, dove è stata segnalata l'ultima presenza della punto di Turetta. Attualmente, le ricerche sono concentrate tra Fosso, Venezia, e Zero Branco, Treviso, con l'ausilio di cani molecolari, elicotteri e reparti speciali delle forze dell'ordine. La situazione rimane fluida, e le autorità continuano a esplorare ogni pista possibile per risolvere il caso della scomparsa di Giulia Cecchettini e Filippo Turetta.